Ciao a tutti allenatori, sono sempre io e il vostro amico Federic e benvenuti nel primo episodio della nostra guida extra a Pokémon Spada Oggi siamo pronti per andare a scoprire tantissimi luoghi misteriosi della regione di Galar C'è ancora tantissimo da fare, venite con me e seguitemi in questa nuova avventura Perché è adesso che si inizia a giocare seriamente Joycon alla mano e partiamo subito Ma prima lasciate un bel pollicello in su, un commentino qui sotto e iscrivetevi al canale Perché in queste parti extra vi dirò alcune cose che sono sicuro non conoscevate Per esempio, sapevate che utilizzando la bicicletta e scendendo qua sotto potevate raggiungere un nuovo percorso? Eh già, eh già, sì 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 Qua si trova uno strumento veramente molto utile che io ho già raccolto Che è per l'appunto la benda scelta Uno strumento veramente troppo troppo utile Ma sapevate anche un'altra cosa? Che lungo questo percorso si possono trovare tanti altri strumenti nascosti E Pokémon che sicuramente non trovate facilmente? Ecco, scendendo giù di qua Eh sì 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 sì, si può esplorare un nuovo lago Gigantesco ragazzi! E si può anche incrociare un Dreddeno Che io adesso non catturerò perché ovviamente ho già nel team Ma nel caso vi manca Dreddeno, andate qui E prendiamo anche la caramella rara e dietro questo albero Guardate un po', Pippin Max Uno strumento veramente troppo utile Sapete cosa vi dico? Lo utilizziamo subito Pippin Max Axel Palla infuocata Otto, che è il numero massimo di Pippin Che può ottenere Palla infuocata Ma le novità non sono finite qua Perché in questo lago potete catturare tantissimi Barashkuda! Questi Pokémon veramente molto 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 bruttini Che tra l'altro catturiamo perché non abbiamo Harrokuda! Dato che in queste parti extra tenterò di catturare tutti i Pokémon di Galar che mi mancano Ne approfittiamo Dato che il completamento del Pokédex sarà una parte fondamentale della nostra avventura Quindi Ultra Ball e lo prendiamo subito Vai! E uno E due E tre Preso? Preso! Vi devo dire un'altra cosa Non cattureremo la sua evoluzione perché Una parte fondamentale della guida extra sarà anche quella di far evolvere tutti questi Pokémon Eccolo qua Harrokuda! No! E lo inviamo subito ai box del PC Perfetto! In questo lago si possono trovare tanti altri Pokémon E un percorso molto misterioso Il percorso misterioso è proprio questo qua Mi sono sempre domandato una cosa ragazzi Una cosa che veramente non riuscivo a comprendere Adesso vi mostro il perché Intanto scendendo giù di qua possiamo raccogliere uno strumento Eccoci qua Che è Psicoseme Ma andando qua sotto mi sono sempre chiesto Ma come si raccoglie questo strumento? Perché passando su questo ponte lo notavo sempre Ma non capivo come arrivare qui E adesso finalmente comprendo Troviamo la Pietra Idrica Durante questa guida vi spiegherò dove trovare tantissimi strumenti utili Che vi serviranno durante la vostra avventura Vi dirò anche come catturare gli Shiny Come fare i raid Gigamax Quali sono i Pokémon migliori da sconfiggere Per ottenere magari punti esperienza elevatissimi Insomma abbiamo veramente tanto 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 da fare insieme Allora raggiungendo questo percorso si può trovare Obstagoon Che sponerà proprio qua davanti E dato che ci manca Catturiamolo Spero che seguirete questa mia guida Anche in questo post game Drago Furia Secondo me lo lasciamo Forse Forse A vita rossa Sei un dannato Sei un dannatissimo Obstagoon Stai dentro Stai dentro Sì Sì Uh Mi ha fatto dannare Peggio di Zacian Veramente Ok E Obstagoon Altro Pokémon Che si aggiunge alla nostra collezione Perché completare il Pokédex? Perché completando il Pokédex Riceveremo strumenti che ci serviranno tantissimo Soprattutto per lo Shiny Hunting Inviamo ai box del PC Tra l'altro in questo episodio di oggi Andremo anche ad ottenere uno strumento Veramente super utile Che vi servirà con le uova Ma Adesso andiamo Prima di tutto Raccogliamo Questo strumento Che è Psicotaglio MT69 Inutile che leggiamo il cartello Perché immagino che ci dica stronzate Vero? Non puoi catturare i Pokémon Di altri allenatori Immaginavo Fatto questo ragazzi Mi avete segnalato In centinaia di migliaia Ma che dico Ancora di più Milioni di persone Che In stanza di Dundle Ci viene consegnato un Pokémon O meglio Diciamo che lo rubiamo Direi che Suona meglio Non credete? Quindi andiamo a rubare Questo Pokémon In stanza di Dundle Sto parlando di Charmider Un Charmider speciale però Perché questo Charmider Si può gigamaxizzare Nonna tu che non ci vedi Levati Charmider Con la lettera Caro Federic Ti affido Questo Charmider speciale Spero che avremo L'occasione Di sfidarci di nuovo In un'emozionante Lotta infuocata Dundle Raccogliamo Charmider Che spero sia buono Con una natura decente E spero anche Che sia maschio Perché lo voglio maschio Please Vuoi dare un soprannome? Assolutamente no Lo aggiungiamo Alla squadra Perché l'obiettivo Di questo episodio Sarà anche quello Di farlo evolvere Eh non ve l'aspettavate eh Lo aggiungiamo Alla squadra E adesso andiamo Anche a vedere Com'è questo Charmider Quindi Andiamo un po' Info Femmina Mi vuole proprio male Questo gioco eh Eh peggio del peggio Va bene ragazzi Comunque Ce l'abbiamo Si può contraddistinguere Se è un Gigabax o meno Dalla X Vicino il nome In questo caso Charmider Ce l'ha Quindi adesso ragazzi Lo facciamo salire di livello Ma prima dobbiamo fare Alcune cose un po' importanti Come per esempio Andare alla Torrelotta Esplorare nuovi percorsi Quindi Raggiungiamo Goal Week Dove Non c'è più la Rose Tower Ma c'è la Torrelotta Direttamente Vi spiego un po' Come funziona Ok Allora Iniziamo Da questo tipo qua Oh Non mi dire Sei diventato campione Ben fatto In tal caso Posso rendere più forti Pokémon di livello 100 Con un bel allenamento pro Ora Non abbiamo Pokémon di livello 100 Quindi vi spiegherò Poi una volta ottenuti Pokémon di livello 100 Come prendere i tappi Nella guida extra Vuoi prendere in prestito Una delle mie squadre lotta No E voi direte Perché no Perché nella Torrelotta Ci possono anche prestare i Pokémon Qualora Non ce l'avessimo Benvenuto alla Torrelotta Cosa posso fare per te Spiegami Come funziona La Torrelotta Come dice il nome È una struttura Dedicata alle lotte Pokémon Quindi Potrai lottare Con le stesse regole Delle lotte competitive Vincendo le lotte Potrai ottenere premi Come caramelle E punti lotta Si può lottare Anche con squadre a nolo Quindi a noleggio Allora Detto questo ragazzi Non facciamo una lotta Perché farò un episodio Dedicato solo alla Torrelotta Benvenuto al negozio Vediamo un po' Cosa si può comprare Con questi punti lotta Una marea di strumenti Ragazzi Ne abbiamo tantissimi Il palloncino Il foco al nastro Lo zaino fuga Tanti Ma tanti di questi Li abbiamo già ottenuti Come la benda scelta A inizio episodio Oltre a questi Si possono ottenere Oggetti ancora più particolari Come per esempio La menta schiva La decisa La birbona Eccetera 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 Se non sbaglio Con questi strumenti Si può cambiare La natura del Pokémon Ma forse mi sbaglio Non lo so E qua possiamo ottenere Tipo Zero Zer Questa tipa Ce lo affiderà Rom elettro On E la bolletta si dimezza Ovviamente Perché c'è lui Ah no Che dico Prima bisognerebbe Far evolvere il tipo Zero Perché le rom Si possono usare Solo su Silvalli Ah ma tu sei Federick Il campione Ancora complimenti Per la vittoria Ci regala tipo Zero Appunto perché Siamo il campione E ci affida Un nuovo Pokémon Quindi lo faremo evolvere E gli affideremo Tutte le rom Per farlo diventare Fuoco Lotta Elettro Acqua Ghiaccio Eccetera Vuoi dare un soprannome No Ma lo inviamo Ai box del PC Quindi teoricamente Adesso se apro lo zaino Dovrei vedere Tutte le rom Infatti Un mucchio di rom Ci dà ragazzi Veramente un botto Andiamo in borsa E controlliamole Eccole qua ragazzi Chi più ne ha Più ne metta Tutte le abbiamo Ma fatto questo Non ci resta che andare A far allenare Il nostro Charmander E per farlo Sfrutteremo proprio Una lotta Ma non una lotta Qualsiasi Perché andremo a sfidare Un avversario Veramente temibile Per fare ciò Ovviamente Mi metto in squadra Pokémon Che possano affrontarlo Quindi se non sbaglio Zacian Ammorse Sì perfetto Devo curarlo Lo spostiamo Qui Leviamo Acidona Mettiamo Dragapult E questo sarà il team Per andare ad affrontare Questo tipaccio Quindi Mappa città Dove si trova questo tipo? Si trova qua sotto ragazzi A Churchchester Esattamente Nell'albergo In questo albergo Si può trovare un tipo Molto molto potente Che abbiamo già incontrato Durante la nostra storia principale E che ci ha detto che Una volta diventati campioni Dovevamo andare a sfidarlo Ed è quello che faremo proprio oggi Quindi andiamo a sfidarlo Si dovrebbe trovare al primo piano Sala Prima La prima stanza a sinistra Se non ricordo male Quindi di qua Dovrebbe essere proprio qua dentro Vero? Sì eccolo qua Il poliziotto Quindi sfidiamo lui E lo faremo con un team Di leggendari ovviamente Perché ragazzi Non ho fatto in tempo Per caricarvi quest'episodio Ad allenarmi il team Volete 2-3 episodi al giorno? Ecco Cuccatevi la squadra al 62 Vai Complimenti Io sono Morimoto Morimoto di Game Freak ovviamente Tutti noi lo conosciamo Quindi vai Parte la sfida Contro Morimoto Vi devo dire anche un'altra cosa C'è modo di reperire Charizard Gigamax Anche andando nelle terre selvagge Ma vi spiegherò più avanti Dove trovarlo E come catturarlo E così via Perché ci sono vari trucchetti Ok? Abbiamo Eternatus E Zassian Complimenti Federic Per esserti scordato Di curare il team Sei veramente Un fenomeno Sì ragazzi Mi sono dimenticato Perfetto Cannone Denamax Su Graplocked Anche se io A questo punto Sostituirei E mando direttamente I taci Mentre su Cursola Secondo me Sgranocchio Non è di tipo Spettro Mi sembra un spettro Ma sapete che vi dico Proviamo Chi se ne frega Vediamo un po' come va Dai Quanto li leviamo con Sgranocchio? Abbiamo un attacco devastante Ok Lui si para Ma non l'avevamo attaccato Quindi perfetto Sgranocchio Gnammetelo Mamma mia Cursola È l'evoluzione di Cursola Ultimo tocco Che cos'è ultimo tocco Ragazzi Non ho capito Ultimo tocco Dragospiro Vuole imparare No Rogodente Chi se ne frega Tipo ultimo canto? Ma seriamente? No vabbè Non ci credo Fuori di testa Eh ora stiamo attenti Perché come sapete Le mosse terra Ci fanno parecchio male Ragazzi Ma parecchio Parecchio male Siamo super efficaci Al fuoco E alla terra Quindi Mamma mia Vita rossa Baldeali Vediamo un po' Pensavo fosse Leggermente più forte Questo morimoto Grab locked Siamo attenti ragazzi Alla mossa terra Alti punti esperienza Livello 22 per Charmander Probabilmente non ce la farà A salire a livello 36 Dopo questa lotta Ma 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 ha 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 E vabbè Almeno ci muore Ma vi spiegherò più tardi Poi come ottenere Tanti punti esperienza Facilmente Con i Dynamax Di livello 5 Comunque Si è suicidato raga A me va bene così Ultimo canto raga Devo sostituirlo Per forza Chi mando? Bella domanda Ah Eternatus Vai Riproviamo a mandare lui ragazzi Vediamo un po' Quelli pokemon ha in campo Sto giornè Benvenuto Sto giornè Un pokemon che ha molta difesa Ma non troppa difesa speciale Vero? Se non ricordo male Oddio dragapult Oddio mio no 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 Non va bene Allora raga Eh Cannone Dynamax Su sto giornè Per forza Mentre Taglio maestoso Ha un effetto normale Ma sgranocchio Super efficace Forse li shottiamo Vediamo un po' Zacian Oh yeah Oh yeah Yes 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 Shottatissimo C'è almeno da livello 28 Visotruce Non mi interessa Canone Dynamax Allora Teoricamente Ha poca difesa speciale Teoricamente Poi Teoricamente si Pure brutto colpo Forse è per il brutto colpo Sapete Ok Livello 29 Oddio ragazzi Devo cambiarlo Se no Posa Storlax Ok Devo cambiarlo raga Assolutamente Tra l'altro Non ho la Giga Max Lotta Proveremo a finire Tutto in questo turno Quindi Cannone Dynamax Qui E Spada Solenne Se dovessi fallire Addio Zacian Perché c'è ultimo canto Ah ma c'ha la Dynamax Se non ricordo male Snorlax C'ha anche la Giga Max In questo gioco Tipo Non ricordo ragazzi Non ricordo Credo che qualcuno Me l'ha scritto nei commenti Spada Solenne Uh Gli fa male E come se gli fa male Cannone Dynamax Shotalo 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 Non lo shotterà mai Ma mai nella vita Vero 5 PS Forse 10 massimo Vabbè Zacian Era destinato Ragazzi A morire C'è l'ultimo canto Aumenta la difesa speciale Ciao Zacian Era destino C'è l'ultimo canto Una volta lo faceva Archeus Questa mossa Adesso lo fa Corsola Vabbè Dragapult Let's go Battle Ok Dragapult Allora Teoricamente Siamo più veloci Teoricamente Ma lui Userà Ricarica Tot Chi lo sa Proviamoci E dai Madonna mia E madonna santa Però Così non si può Così non si può Cioè Non si fa così Drago Freach Ah io perché Non posso Dynamaxizzarmi Perché avevo due Pokémon leggendari In campo Vedi Perché se no Con noi Dynamax Dynamax E Dynadragone Mamma mia Se gli facciamo male Adesso tocca a noi Dynamaxizzarci Scusa Hai fatto il ricaricatot Adesso stai fermo E stai anche muto Ok Vai Let's go Dragapult Che bello Questo Pokémon non ha La Gigamax Vero Lui no Mi parli di no E il Pokémon Drago Erba C'è la Gigamax Se non ricordo male Da notare Tutti i loghi Di Game Freak Ovunque Vedete i loghi Di Game Freak Sullo stadio Perché ovviamente Stiamo affrontando Morimoto Di Game Freak Vediamo un po' Se adesso riusciamo A shottarlo Con il cannone Dynamax Siamo messi Adesso si Ammazziamo Almeno che non si è aumentato La difesa speciale Senza speranza Raga Senza speranza Siamo di tipo Veleno Quindi subiamo Ovviamente Si aumenta la difesa speciale Infatti E Snorlax Diventa piccolo Piccolo E adesso Snorlax Cos'è che fai Cos'è che fai Diccelo 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 Terminiamo qui ragazzi La partita Ciao Morimoto Esplori Bon Perfetto Snorlax L'abbiamo ucciso Livello 31 Per Charmander Che non riesce A salire A livello 36 Non ce la fa Peccato Ed ecco qua Che abbiamo sconfitto Morimoto Che ci darà Uno strumento Molto utile Io ragazzi Mi baso Su quello Che mi avete scritto Voi nei commenti Quindi Stando a quello Che mi dite voi Lui ci dovrebbe Consegnare Uno strumento Che ci dà Alta probabilità Di trovare Uova Uova la pensione Quindi Evolviamo Charmander In Charmeleon Perché ha raggiunto Il livello 31 Ed eccolo qua Bello come il sole Però ci se fare Tanto di cappello Ed ecco qua Che ci consegna Oh l'ova muleto Oh molto molto bene Ok Vi ho già spiegato Cosa fa Quindi andiamo Fatto ciò Dobbiamo soltanto Far salire di livello Il nostro Charmander E non sarà Un'impresa facile O meglio Se non seguite I consigli di Federick Box del pc Via Eternatus E rimettiamo Il goblin E andiamo Nelle terre selvagge Piazzale ad un'ansa Dove c'è tra l'altro Il negozio VAT Qua possiamo far Riposare la nostra squadra Per qualche secondo Bene Allora Cerchiamo subito Qualche bel Ride Vediamo Oh tempesta di sabbia Non mi piace per niente Vediamo se questo È di livello 5 Ma penso di sì Di livello 5 Questo è bello E credo che sia Noctowl Possiamo usare Toxtry City Sì 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 Mi piace Sfida in solitaria Quindi ragazzi Ovviamente vi salterò Questa lotta Perché è totalmente inutile Ma Vi spiegherò Passo passo Qualcosina Al riguardo I ride di livello 5 Sono veramente Molto molto difficili In quanto I pokemon Tendono a usare Più volte la barriera E ci mettete Un po' A sconfiggerli Ma con qualche Accortezza Potete farcela Una volta sconfitti Vi daranno delle caramelline Che vi faranno salire Un pokemon Da livello 1 A livello 40 In un attimo Perché si chiamano Caramelle XL E sono veramente Ottime Comunque Battiamolo Dynamax e Dina Saetta Vai Vediamo un po' Quanto ci mettiamo Sono anche molto Fastidiosi Perché Sono molto Molto resistenti E poi Noctowl è un pokemon Che la difesa speciale C'è l'alta Quindi Dobbremo buttarlo giù Con molta Molta calma Purtroppo I server Attualmente Di pokemon Hanno veramente Problemi Altissimi Ed è straziante Andare online Ok E' veramente Fastidioso Perché Magari trovate un ride Poi nessuno si unisce Alla partita Ah Dio mio E' veramente assurdo E comunque Quando cercate i ride online C'è anche da dire Che non è poi Tosta gran che di scelta Ne arrivano 2 3 Massimo 4 Ci si aspetterebbe Almeno 20 ride A bot Ok Invece così No Però Per ora Finché non Fanno qualche tipo Di aggiornamento Ci cucchiamo Quello che abbiamo Nei prossimi episodi Vi spiegherò Come ottenere Per esempio Alcuni gigamax Come cambiare Il tempo nel gioco E ottenerli facilmente E trovarli sempre Ok Quando rompete la barriera La difesa Cala di molto E anche la difesa speciale Extra senso Ci fa tanto Perché comunque Siamo di tipo veleno Adesso Che la sua difesa speciale E' calata di molto Il nostro prossimo attacco Farà parecchio male Tuttavia La sua velocità aumenta Quindi può essere Che attacca di nuovo lui Vai di nuovo Dina Saetta Riduttore Su Snorlax Meno male Guardate ragazzi Adesso quanto li leviamo Adesso li leviamo tantissimo Raga Veramente un botto Mamma mia Yes Ed ecco che attiva Di nuovo lo scudo Per quello ragazzi Che vi dico Le lotte vanno avanti Ancora 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 Perché continua ad attivare lo scudo E la cosa che dà A parecchio fastidio E che molte volte Lo riducete Proprio al limite E non riuscite nemmeno A catturarlo Ok Questo purtroppo Può succedere Immaginate che state cercando Questo Gigamax Da un sacco di tempo E poi all'improvviso Li scappa E' veramente un peccato Delmice Torna in campo Perché una volta sconfitti Passano tot turni E torna Io utilizzo una ricarica tot su di me Perché alla prossima mossa Mi distrugge Quindi ci ricarichiamo Eterlama Snorlax Che resiste Lucidatura Purtroppo ci sono capitati Dei pokemon Che non attaccano In questo caso Si vanno soltanto A boostare le statistiche Ma nessuno attacca A parte Delmice Knocktowl Ci va di Hypnosi Fortunatamente si protegge Snorlax Va a KO Tornerà tra un paio di turni Hypnosi Su Solrock Devo dire che questo Knocktowl E' abbastanza fastidioso Molto molto fastidioso Perché se nessuno attacca Levargli la barriera È veramente un'agonia Dina Jet Poi fa anche male Vedete Fa molto molto male Questo pokemon Io consiglio di fare i raid Insieme ai vostri amici Perché uno porta provocazione E l'altro porta un'altra mossa Capito Overdrive Ok Adesso ragazzi Cala la difesa Ancora Perché una volta che gli avete battuto La seconda barriera Cala ancora E adesso Con la prossima mossa Lo facciamo fuori Vortex palla Vi dovrebbe fare comunque Già male Infatti Ma ragazzi Brutto colpo Ci è andata di culo Questa volta E una volta sconfitto Adesso Non ci rimane che Catturarlo Quindi cattura Andiamoci di una bella Mega ball La ball più forte Io vi consiglio Io purtroppo Non ho più ultra ball Quindi Mi basta questa Quindi Ecco qui E vediamo un po' Se riusciamo a catturarlo Ma di solito I Dynamax Li catturate facili Sono i Gigamax Che rischiate Che escano dalla ball E là è frustrante Vai 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 Preso Buon ragazzi Da notare che i Gigamax Sono molto più forti Di questo Questo è stato Abbastanza semplice Una volta catturato Ci daranno anche Degli strumenti Molto interessanti Che adesso Andiamo subito a vedere Quindi Andiamo a vedere Questo Noctowl Cosa ci ha regalato Abbiamo la caramella Exp XL E la caramella Exp L E più altre caramelline Dynamax Poi ci hanno dato Anche la tripletta Il corpo scontro Il sostituto Insomma Qualcosina di carino Ci ha dato Anche due bacche Detto questo Usiamo la caramella Exp L Che forse Dovrebbe bastare 10.000 punti esperienza Nel numero 34 Bene Possiamo riutilizzarla Bene 37 La XL Ragazzi La teniamo Perché comunque Capite che ve ne danno Una a ride Da 5 stelle Facciamolo evolvere Charmeleon In Charizard Charizard Gigamax Ottenuto Ripeto Vi spiegherò anche Come ottenerlo Qualora ne volesse Un altro Sempre qui Venetare selvagge Nei prossimi episodi Charizard Che dovremmo imparare Etere lama Se non sbaglio adesso Vediamo un po' Facciamoli Dimenticare una mossa Magari Rugito Cosa abbiamo Graffio Va bene 1, 2, 3 E Charizard diventa Gigamax E ovviamente Che fai Non lo provi Lo andiamo subito a provare Per poi dimostrarvi Che effettivamente Si può Gigamaxizzare Eccolo qua Vedete la X Vicino al nome Direi che come primo episodio Non è affatto male Sono molto contento Di come stia venendo Detto questo Magari Ecco Andiamo là Che ce n'è uno Di ride Proviamo a fare questo Vai Prendiamo 2000 watt E niente Lo affrontiamo ragazzi Tanto è soltanto Per farmi vedere Questa gigamax Non farò Nulla di più Ormai L'episodio Può giungere al termine Da domani Andremo a catturare Altri gigamax Un pokemon Un po' sbagliato Da affrontare Con Charizard Ma tanto Devo soltanto Farvi vedere Questa evoluzione Ragazzi Nulla di più Banco di wish washi Ed eccolo qua Quindi Federico Avrà ragione Il suo Charizard Si potrà Gigamaxizzare Si o no Oh ragazzi Andiamo subito a scoprire E uno E due E tre Gigamax a noi Non tocco nulla Vi faccio vedere Che non c'è trucco Non c'è inganno Charizard gigamax Eccolo qua Ma ragazzi Che dire Per questo episodio Direi che può Essere tutto Vi ringrazio Ci vediamo Alla cattura Dei prossimi Gigamax Sono veramente Contento Di come sia venuto Questo episodio Un bel like Un commento Iscrivetevi al canale Per non perdervi Tutti i prossimi Episodidi Della guida extra Povero Hitmore È morto Anch'io sono morto La mia gola È a pezzi Oggi c'ho Giusto un po' di fastidio Niente di che Ci vediamo Al prossimo episodio E nulla Spero che Seriamente Continuerete a seguirmi qui Perché ci sarà Tanto e tanto Ancora da fare Ciao allenatori